Qualche mese fa, se ti ricordi bene, c'è stata una causa per la Nikon che ha attaccato Red, perché appunto la Z8, che è questa, e la Z9 hanno il RAW interno. E sono, se non sbaglio, le prime, mi rolle se la vera, forse c'è. No, sì, è la R5, la R5C. Ok. Però è un file molto più particolare. Un file più particolare, mentre la Nikon ha l'NRAW nella Z8 e la Z9, è un file splendido. Per me i punti perché Nikon abbia comprato Red è perché comunque fino alla Z8, Z9, poi la Z8 Nikon era un po' indietro nei video, però con la Z8, testando e vedendo i file, ha un bel log e un RAW. Sì, ma qui ci colleghiamo al fatto che nella Z9 e Z8 appunto è un RAW interno, per il quale è andato in causa con Red fino a qualche mese fa. Sì, per le compressioni. Per le compressioni del RAW. Sono stati in causa e dopo, diciamo che la causa era, non si è capito se era stata vinta da Nikon o era stata una cosa. Ha vinto Nikon, però era finita la faida tra i due brand. Si era fermata un attimo la faccenda. E dopo più o meno 5-6 mesi, boom, notizia di oggi. Sarà fina. Red ha comprato Nikon. Sì. Quindi, però Red ci guadagna con la compressione del RAW. Perché mi sembra che, se non sbaglio, Atomos pagava una piccola parcella per avere il RAW compresso. Sì. ProRes poi. Sì. Anche, esatto, a parte il ProRes, esatto. Apple ha fatto causa a Red. Sono andato in causa con Red e ha perso. Sì, è stato un gran casino. Apple ha perso. Perciò ha il suo ProRes RAW, ma non ha la compressione del RAW di Red. Perciò non penso sia proprio solo una cosa di vantaggio economico di questa collaborazione. Per alcuni è solo un vantaggio economico, nel senso che Red aveva bisogno di... Soldi. Soldi. Per altri, no. Io non so, la verità... Io non penso che Nikon abbia problemi di soldi attualmente, comunque nel 2023... No, viceversa, Red. No, no, ma nel senso che... Cioè, tra le camere più vendute del 2023, tra le 10 camere più vendute, c'è la Nikon Z8 e la Z... La FC. Sì. Z8, grandissima camera, molto prosumer. Sì. Però comunque è quasi la portata di tutti. È un RAW che... È... Bello, molto, molto bello. Sì, poi magari ne prendiamo un video a parte. È un gran bel RAW. A differenza di... Adesso, vabbè, ce la vediamo tutti e due qua. Nikon. E Red. La differenza tra questa e questa... Vabbè, una è una cinecamera. Questa è una ibrida. Questa ha più compressione di RAW, la Red. Vabbè, senza parlare del sensore, che è un global shutter, perciò è molto fluido, anche se questo è molto veloce. Cosa volevo dire? Non mi ricordo. Forse parli delle compressioni, delle... Ah, sì, esatto, le compressioni... No, sia a parte le compressioni che qui ce ne sono solo due, alta qualità o bassa qualità. Cioè, scusa, normale o alta. Qui ce ne sono quattro. Sì. La differenza è che nel RAW della Red puoi cambiare gli ISO in post-produzione, nel RAW della... Detotto. Detotto, per adesso, no. Però, diciamo, sono molto, molto simili. La qualità, se è esposta corretta, chiaramente non bisogna fare un cambio di ISO allucinante, è molto, molto simile. E il recupero delle alte luci dell'AZ8 è molto buono. Quindi... Sì, infatti è una... la seconda camera, l'AZ8, ad avere la possibilità di un RAW interno. Molte camere ce l'hanno esterno, ma il vero problema è che, non so, di fare un camera car, una inquadratura un po' più particolare. Sì. Quel cavo HDMI, ogni tanto... Sì, beh, in quel caso HDMI, in questo caso, SDI. SDI. Però è sempre meglio avere la registrazione interna, sicuramente. L'interno, sì. Quindi, non lo so, si stava anche parlando, se non sbaglio, c'è stato un rumor che Nikon sta facendo un nuovo log. Quindi... Sì. Boh, adesso si vorrà vedere... Da due mesetti che si parla di questo nuovo log di Nikon. Sì. Quindi non è una... Cioè, o è stata tutta una cosa, comunque sapevano già di comprare Red, quindi il nuovo log è proprio apposta per l'entrata della Red? Guarda, sicuramente, già la Red comunque ha un log che non ha un file vecchio. Adesso non so bene quando è stato aggiornato, ma ha un bel log. Quello di Nikon, comunque sia, anche quello è un bel log facilmente colorabile per tutto. Poi da secondo da Vinci, diciamo, con le latte o sennò il Color Space Transform. Diciamo... Usatelo, mi raccomando, usatelo. Usatelo. Anche Milk Latte non è male. Sì. Stai cominciando. Stai cominciando. Poi ne parleremo anche di quello. Diciamo che è un bellissimo log, però forse vorranno fare un log assieme. O forse Nikon acquisisce il RAW e il profilo colore di Red. Potrebbe essere. Molto probabile. Molto non lo so. Vabbè. Però è uno dei vantaggi che potrebbe avere la Nikon acquistando la Red. Comunque Red ha dei bei sensori, adesso. Da quel che dice Red, sono sensori che compra, cioè che produce lei. Invece Nikon compra i sensori da Sony. Quindi magari un sensore fatto in casa da Red sulla Nikon potrebbe essere una realtà, come abbiamo visto oggi, molto possibile. Sì. Che fa sperare molto ai prosumer che vogliono iniziare nel mondo cinema, quindi filmmaker, soprattutto. Io senza dire ne se ne ma, molto onestamente, collaboro con Nikon in Italia da diversi anni. Quindi non nascondo che sono molto felice che Red sia stata comprata da Nikon. Sì. Però voglio anche dire, ho incominciato ad usare Nikon professionalmente nei video da Z8. Sì. E comunque sia invece un rapporto con Nikon, ce l'avevo già la prima, con la Z6 II, che ho usato, ho testato e tutto, ma non mi sono mai sentito di dire, ok, è una camera livello. Con la Z8 e la Z9, sì. Sì, adesso la Z9 era l'ammiraglia, quindi era poco accessibile per la maggior parte delle persone. Esatto. La Z8 invece si avvicina... Un prezzo competitivo. Cioè comunque l'R5, l'FX3 e altri... Sì, ma l'FX3 non fa foto. Cioè la Z8 è un indirizzo proprio per l'eccellenza, infatti ha vinto. Sono allo stesso prezzo, alla stessa fascia di prezzo, comunque ti dà un RAW, sei un 8K, fai un ProRes e un RAW interno, infinito. Non vai in over-eating dopo gli ultimi aggiornamenti della Z8 e poi... Cioè infinito, fino a due ore di registrazione. Sì, finché non finisce la... La batteria, quindi... Farà difficile registrare due ore consecutive un video, cioè... Sì, se no, per quello come usiamo noi, insomma, non c'è mai capitato. Nei video musicali, pubblicitari, oppure anche cortometraggio. Cioè è una camera che per me si potrebbe utilizzare senza nessun problema, comunque. No, no, lo utilizziamo senza nessun problema. Sì, sì, sì. Poi questo che hai detto da un possessore di FX3, quindi ragazzi, voglio dire... No, nonostante ho preso l'FX3... Che è una buonissima camera, non vogliamo togliere niente a Nikon. Ah, scusate, a Sony, ma... Adesso dico oggi nella mente di tutti dopo questa cosa. Esatto, esatto. No, cioè comunque io anche il detentore di FX3, per quanto mi piaccia, non... Cioè nulla incontrarlo alla Z8. È una grandissima camera, il file è piaciuto un sacco. Mi piace, comunque si assomiglia molto a quelli della Red. Cioè poi un 12-bit interno. Cioè l'unica è la R5, l'R5C, ma è un file un po' più particolare. Non è un vero RAW, è un light RAW. Allora, io sono sempre di idea che prima di giudicare bisogna provare. Anche perché se ne sono detti di ogni su Nikon Video, Nikon per i video, bababà. Anche su Z8, però alla fine si sono sempre voci di gente che non l'ha provata. Perché quando la provi è impossibile che non ti piaccia. Quindi non mi sento di dire niente sulle Canon, perché la 5C l'ho usata una volta velocemente. No, no, non... Perciò non avendo la testata bene, non posso dire. No, comunque... Però quello che ho provato velocemente a me non mi è piaciuta. Però, devo dire, non l'ho avuta. Non l'hai provata... Bisogna un attimo innamorarsi anche delle cose, no? No, comunque era la prima camera che faceva l'8K interno, un RAW interno, l'R5. Dopo magari è stata venduta come camera 8K, qui magari hanno... Si, hanno sbagliato quello. Sbagliato un attimino. Però comunque ancora adesso è una camera molto valida. Io la vedo ancora sui social. C'è gente che la usa, fa dei video e ha un bel file comunque. Cioè, ha quel colore Canon, caldo. Comunque deve piacere. Cioè, è una roba che come qualsiasi camera deve piacere. Cioè, puoi prenderne una così a caso giusto per... Cioè, dipende anche dal lavoro che devi fare ovviamente. Sì, però ogni c'è una camera per ogni lavoro. Infatti noi comunque qui abbiamo la Z8, la FX3, la FC, la Komodo, abbiamo la URSA 12K. Cioè, comunque sia... Cioè, abbiamo usato anche poi la Blackmagic Pocket, la 6K. Abbiamo usato la 6K, la 4K. Adesso non l'abbiamo più, però... Diciamo, per ogni... Hai provato molte cose te? No, ma anche te, nel senso... Sì. Per ogni lavoro utilizziamo quello che ci serve, diciamo. Sì. Magari in base anche come vogliamo pensi alla color, oppure le varie luci. Prendiamo una camera diversa, poi. Esatto. Quindi, diciamo, c'è spazio un po' per tutti e tutti i modelli. Adesso, quello che mi chiedo io è se diventerà un... Ho visto oggi, ci sono tutti i meme della... Nikon, Voxcam, Red... Esatto. Sinceramente io spero di no. Io spero che le due cose rimangano in divise. Sì. Anche io. Cioè, Nikon, macchina fotografica ibride della Madonna. Perché comunque Z8 e Z9 sono ibride super. Comodo, Red, rimanga più per lato... Video... Film, sì. Cine, simplicemente. Cioè, cinecamera. Punto. Perché Red e cinecamera. Sì, come dici te, dovrebbe tenere separati. Perché se in Globos tu che fa eclissare completamente Red, potrebbe perdere anche a livello monetario. Perché la gente che è una Red si sta per arrabbiare. Perché Red comunque è un brand iconico. Cioè, è nato nel 2005 da un ragazzo. È giovane. Sì, cioè, ha 19 anni come brand. Sì, poi c'è proprio il mood del... Cioè, nel senso... Zared, il co-founder di Red, è un regal. Dai. No, come dire? Sì, è un... Non è un... Cioè, fa le live su YouTube, le live su Twitch, quando viene invitato da alcuni utenti... Cioè, una persona non ha quella... No. Non è inarrivabile. È una persona, da quel che ho visto, molto basica. Cioè, che non è che... Sì, vabbè, certo. Vai red carpet con le crocs, nel senso. Quindi, cioè, è una persona da stimare per di tutto. Esatto. E poi, cioè... È un filmmaker, uno di noi, è uno che usa le camere. È uno di noi. Sì. Perciò, ci puoi parlare. E questa è una cosa bella, no? Di grande. Sì, ognuno magari pensa che il creatore di Harry, o di... Siano persone... Comunque, ovviamente lo sono, molto inarrivabili. Cioè, che tu le vedi... C'è un abisso da una persona normale a una più normale, come noi. Sì. Invece lui è proprio... Non sembra essersi montato la testa, ecco. Io spero davvero che lui rimanga. Sembra di sì. Speriamo. Io spero che lui rimanga, perché comunque è un'icona. Quello che mi piacerebbe vedere è comunque sia... Sì, Nikon ha comprato Rad. Ok, se aiutano. Nel senso, beh, penso Rad potrebbe essere aiutato da Nikon dalla parte autofocus, visto che comunque è una delle prime cinecamera con l'autofocus. La Commodore e la Commodore X. Anche la Commodore e la Commodore X. Penso anche la Raptor. Sì, sì, la Raptor ha l'autofocus. Durrebbe, sì. E potrebbe comunque avere una grossa mano da parte di Nikon. Poi Rad ha fatto il proprio brevetto di autofocus, che è il Face 3D Detector. Ok. Sulla Commodore X. Sì. Quindi magari... Quello di Z8 è da paura. Sì, ha un bello... Cioè, tiene l'autofocus fino al 3% della proporzione del sensore. Ok, a parte quelli... Sì, funziona molto bene. Perciò, comunque, potrebbe prendere l'autofocus, mentre viceversa... Nikon, beh, quello che potrebbe prendere da Rad c'è già. E il RAW. Magari i sensori, perché... Sì. Non si capisce bene se Rad li compra o se li costruisce. Questo ancora non ha un obiettivo a riguardo. E quindi mi piacerebbe comunque vederle continuare ad essere così separate. Sarebbe brutto vedere che Nikon comunque acquista questo brand, comunque usato da David Fincher, Ben Affleck, Jason Momoa, che gli hanno fatto anche la red d'oro per lui. Speciale, lui. Sì. Però sì, sarebbe brutto vedere che se Nikon facesse decadere questo brand, e se ne appropriasse lo metterebbe solo su Nikon, diventerebbe Nikon. Sì. Perché comunque è un brand iconico. Come dicevo, David Fincher, con anche la serie che ha fatto su Netflix, che è Mindhunter, si è fatto fare la Xenomorph, che è un prototipo solo per lui, che è anche interessante, perché ha sia lo spallaccio integrato che è particolare. Però è un prototipo che ha voluto lui e ha fatto anche varie camere proprio apposta per David Fincher, ma anche per altri registi. Cioè, e poi è particolare, è un brand... Cioè, è un brand a parte, come Apple nei telefoni. È un brand a parte, sì. Poi comunque è una realtà piccola, che non sarà più così, sicuramente. Però sarebbe bello vedere salvaguardata un po' questa realtà, questa cosa. Solo il tempo ce lo dirà, quindi non... Sì, adesso l'ha acquistata stamattina, adesso saranno le 4, le 5, quindi ancora molto giovani e fresca come notizia, quindi... Sì, perché dall'altro lato invece ci sono gli utenti storici di Red che magari dicono, cavolo adesso ha preso Nikon, è stata comprata da Red. Sì... Lo vedono in modo negativo, secondo me alcuni potrebbero, no? Sì, il problema è che la gente ancora, per me non si è ancora... non ha veramente capito il potenziale comunque della Z9, della Z8. Perché ancora vedo... Sì. Per la gente, mi dispiace dirlo, la prendo ancora un po' in giro Nikon. C'è ancora quel meme globale a Nikon fuori da... Sì, sì, no, sicuramente. Ho visto anche su... Nello stesso mondo qui di YouTube, ho visto anche interviste di YouTuber americani dove dicono quasi con vergogna che stanno usando Z8, capito? Sì. Per fare video. Ed è un peccato questo. Il fatto che hanno comprato adesso Red, la gente... Oggi smetterò di usare Red. Sì, sotto il profilo... Sì, sì, di... Però alcuni erano un po' dei meme. Sì, è un meme per me adesso. Perché comunque la Z8... Tanta roba. Si è piazzata. Cioè, Nikon con questa camera è riuscita a fare una camera per tutti. Sì. E... Cioè, comunque per i video... Ha messo dei bei paletti. Si è proprio imposta ben bene. Sì, sì, sì. Già con Z9. Da tapieto pesante. Da tapieto pesante. Allora, io sono... Come ho detto, sono felice di questo acquisto. Di questa integrazione. Staremo a vedere. No, non voglio concludere così. Prima c'è altro da dire, però. Sì. Cosa potremmo dire? Nikon nel mondo cinema? Cosa potrebbe fare? Beh, no. Perché secondo me lo vorrebbero rimanere divisi. Cioè... Però magari Nikon fa la Nikon. Magari fa un brevetto particolare. Fa la propria Nikon da cinepresa. Sarebbe carino. Cioè, sarebbe carino, però ormai... Perché comunque siamo sempre loro. Quindi secondo me la red è cine. Nikon rimarrà ibrida e foto. Cioè... Io non vorrei vedere i due marchi accostati assieme. Una red con la pellicola? Orca. Ah, c'è la Xenomorph. Mi sa. Mi sa di già. Non mi ricordo. Però credo che è bella pellicola. Non vorrei dire... Non saprei. Steremo... Sarebbe carina. Sarebbe digitale. Nikon un po' più... Retro fa una roba un po' più... Però... Si sa, bisogna vedere. Però credo che con la Z8 ha fatto la digital camera, cinema digital camera, red è cinema camera digital. Quindi è un po' difficile vederla. Sì, vedremo un po'... Magari un miglior touch su... Sì, vabbè. Sicuramente sulle cose lì. La red, però se la comodo... Vabbè, la X è già un miglior atto molto. Sì, sì, sì. Però... Il touch del monitor, che questa comoda, ha un po' di lag... Comunque è una camera lenta. È un po' macchinoso. È un po' macchinoso, un po' lenta. Però comunque si ha... No, si difende bene. Si difende bene. Ha un global shutter, ragazzi, che... Dai. Sì, è un bel... È un bel sensore. Cambia tutto, è proprio una roba... Un concetto di video e di ripresa diverso. Cioè, è bello. Cioè, è una roba che, vista così nei video, nei video è un po' più... Non rende molto, come quando hai il file sul computer, lo colori e vedi proprio tutti i dettagli. Chissà poi se Nikon, a questo punto, avrà acquistato anche il patentino del RAW. Chissà se lo libererà a tutti gli altri brand o no. O lo otterrà sempre per loro. Mi problema, lui lo... Cioè, perché darla agli altri quando l'hai acquistato te? Quindi, così... Infatti, secondo me, no. Però, visto che girava sul web questa domanda, per me lo otterranno per loro. Red RAW, nella FX3, nell'R5. Oddio, se è l'iPhone. Dell'iPhone. Boh, no. Probabilmente no. Nessuno avrebbe pensato che Red sarebbe stata comprata da un brand. Allora, no, non è vero. Io quando ho visto il Red RAW, che comunque non era dichiarato, ci sono delle informazioni su il RAW di Nikon, che non è proprio... Dicono che stanno usando un tico RAW, che comunque è una compressione del RAW, però non è andata in causa. Comunque sia lì, si inasava qualcosina. D'altro canto, si sono trovate. Si sono trovate perché? Perché Sony, comunque sia, ha la linea mirrorless fotografica e la linea cine. Canon uguale. Le altre marche quali sono? Panasonic. Fuji ha fatto la X100, quella GX100. Si, ma ha fatto libri. No, anche quel medio formato che hanno fatto. Si, ma è la macchina fotografica. Anche video fa. Si. Però non ha una videocamera, quello che dico io. Non è come Canon che ha la C100, la C500. Magari sì, certi brand sono più improntati non come camera, ma come accessori, obiettivi e altre cose. Esatto. Mentre questi due brand, Nikon e Red, cioè Red fa solo cinecamera, Nikon ha fatto solo macchine fotografiche barra ibride. Quindi si completano in questo modo. Una domanda. Sì. E gli obiettivi? Allora, c'è questa voce che praticamente toglieranno l'RF su Canon. Scusa, su l'RF Canon, l'attacco RF Canon da Red. E metteranno l'attacco Z. L'attacco Z è un millimetro più largo. Quindi è un millimetro più largo. Quindi anche su la Raptor, che è un vista vision, perciò è un pochino più grande di un full frame, va a vantaggio perché entra un pochino più di luce. In più, ma la cosa ancora più positiva, che è la flangia, cioè la distanza tra la ghiera, la baionetta e il sensore, più vicina. È la flangia più corta di tutto il sistema che esistono. Quindi, se si vuole mettere in mezzo dei filtri, un filtro ND, un filtro promised, quello che è, si può fare. Stanno andando molto questi filtri. Ho visto dentro, sopra il sensore. Un po' strani, non è una cosa che garba molto, però... Non piacciono a tutti. Non piacciono a tutti. È un altro concetto di vedere i filtri. Magari chi non vuole starli... Rischiare di sporcare la lente. No, ma adesso mi sa che anche R ha fatto una serie di lenti, che non mi ricordo il nome, super performante, e puoi mettere i filtri dietro la lente per dargli dei carattere. Avevo visto, sì. Perciò, tipo, vai ad aggiungere dei difetti, però puoi decidere a te quando utilizzarli. Sì. Molto carino. E, infatti, Comodo, ha lanciato i suoi obiettivi, che non sono andati molto, ho visto. Sono molto pesanti. Sono molto pesanti. Parla di due chili di obiettivo. Adesso, allora, adesso, la serie Z è arrivata a una qualità di obiettivi allucinante. Io non sono mai stato un amante di Zoom, ma, tipo, questo Zoom qua, 24-70, 2-8, ha una qualità che è... Molto nitido. Molto nitido. Per effetto clinico. Esatto. Perciò, magari, va bene per tanti, ma non va bene per tutti. Sì. Cioè, per tutti i progetti, non per persone. Magari per un progetto va bene la cosa nitida, per un altro progetto invece si vuole qualcosa di più soft. Sì, dal nitido puoi sempre andarla a rovinare, da un carattere un po' più particolare, come le Blazar Remus, che abbiamo visto, che sono state lanciate da poco, sono molto particolari. Sì. Con quel blur ai lati, molto bella, a me piace. Una gran bella lente. Da quella fa un po' più fatica a riprendere l'immagine perfetta. Sì. Anche aberrazione cromate, queste cose qui. e magari, oh, nella Red mettono l'autocompensazione degli obiettivi. Può anche essere. Può anche essere. Chissà. Però sul RAW non penso abbia effetto. Non so. No. So che ci sono nella Z8 e nell'FX3. Sì, però ci sono, se non sbaglio, per l'H265, H264, sempre 10 bit, è tutto log. Però bisogna vedere il RAW, sì. Bisogna vedere poi come faranno. Però magari si vedranno quegli obiettivi Red, Cine, Risorgere. Ma allora, girava a voce anche questo, che Nikon aveva, stava facendo la linea Cine. e io, cioè, io sono fanatico di lenti vintage. Nikon fino a, penso, quattro anni fa vendeva ancora le Eyes, le Eyes, le lenti quelle che ti hai visto, che ho io, le vendeva, le produceva ancora, fino a quattro anni fa. Nuove. Sono belle. Chiaramente quelle non sono tene, sono fotografiche, però, cioè, potrebbe farlo benissimo. Sì. Quindi sarebbe molto, molto bello. Comunque io, ah, dimmi, scusa. No, ritornando alle, agli obiettivi di Red, cioè, poi era anche una bella, cioè, da parte di Zoom, che ho capito che sono un po' un disastro. Poi c'erano proprio delle belle lenti. Poi vabbè, l'aberrazione cromatica, può piacere o non piacere, dipende poi quanto è presente, però, ci trovano anche un buon prezzo, molto accessibile. Sì, non ne vuole nessuno. Scusa, non ne vuole nessuno. Fuori, ti fanno fuori. Non ne vuole nessuno. No, vabbè, comunque sì, adesso, come nel mondo delle lenti, c'è una scelta incredibile. Cioè, stanno uscendo anche l'Aua, ha tirato fuori Zoom anamorfici, i primi al mondo. Sì, sono belli, particolari. DZO, cioè, abbiamo, Make, perché che altro c'era? Vabbè, le Blazer, vabbè, le due, come si chiamano, Doolance, tantissimi altri brand. Sì, molti stanno spingendo tantissimo. C'è una gran spinta con questi obiettivi. Sì, quindi c'è tanta, tanta scelta. Quindi non sono preoccupato. Poi ci sono tutte le serie vintage, come possiamo vedere, anche Dune 2, è stato girato con, vabbè, dei lenti riviste, da Iron Glass, però sono lenti degli anni 70. L'Elios, ha rivisitato l'Elios. L'Elios, sì, altre lenti, comunque, le sovietiche, che adesso non mi ricordo bene i nomi. Però c'è, questo ti fa capire comunque, da una lente, comunque uno può, vabbè, comunque rifare e riadattare l'Iron Glass, costa abbastanza. Però ti fa capire che... Un film con un milione, con milioni di budget, è quello che mi interessa. Per te il 190 milioni aveva come budget, forse anche se non ho preso. Non è quello il problema, dei 3.000 euro di lente. Però sì. Poi le non leggono, quindi. no, perché altro fa capire, comunque anche con delle lenti, se tu prendi anche la lente vintage, che magari, ok, avrà 5 lamelle invece di 16, però comunque, sono lenti che trovi con 1.000 euro, ti fai un set, sì. Cioè, noi abbiamo, un gran bel set. Vabbè, io ho le Takumar, che adoro. Belle. Le Nikon, ho la Helios, vabbè, ho altri lenti vintage. Sì, però. La Canon FD. Ho tra Canon FD, un po' di robetta, ce l'abbiamo, e ci divertiamo. Sì, su quelle. No, ultimamente poi anche con, ti danno scelta, comunque hanno quei difetti, che ultimamente, vanno più le cose con quei difetti lì, comunque, è un troppo nitido. Come, di zio, no? Che comunque, questo è il 90 macro, questo è il 90 macro, i suoi difettini, che però, ci piacciono. Però, ecco. hanno un carattere, un bel carattere. Come prima puntata, abbiamo detto tante cose. Sì. Sono curiosi di sapere cosa ne pensate voi, potete lasciarcelo nei commenti, oppure no, non ce ne fremo un cazzo. No, questo, tagliamo. ok, tornando, tornando a Red e Nikon, sì, abbiamo detto tante cose, in questa prima puntata, probabilmente si potrebbe fare, tre volte, se vi piace questa forma, se vediamo che va, comunque, è una cosa che volevamo fare noi, perché, a mamma ha scombussolato, questa notizia. essendo ambassador Nikon, ambassador adesso, no, va bene, sì, comunque, fa piacere vedere un brand, comunque, Nikon, che qui dice un brand così, cioè, fa ben sperare, per tanta, tanta gente. Sì, e niente, dai, se avete vostre considerazioni, potete dircele qua sotto nei commenti, o anche in privato, tanto trovate i nostri contatti, Instagram, Instagram, in descrizione, alla prossima. Oddio, faccio un attimo.